Con tutta probabilità quella che li ha fatti finire in carcere a Sondrio era droga destinata a consumatori valtellinesi e valchiavennaschi. Era perché i loro piani sono stati fatti saltare ieri alle prime luci dell'alba dai carabinieri dell'alliquota radiomobile della compagnia di Chiavenna e della stazione di Delebio che li hanno arrestati. Sono due brianzoli, un 34enne pregiudicato e un 23enne incensurato e si trovavano a bordo di un'auto in sosta nei pressi del cimitero di Piantedo quando gli uomini dell'arma nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla repressione dei reati attinenti al traffico di sostanze stupefacenti li hanno sottoposti a perquisizione personale veicolare trovandoli in possesso di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate. Nello specifico con sé avevano diversi grammi di eroina e cocaina contenuti in vari brattoli, circa 120 grammi tra shish e marijuana custoditi questi in vari sacchetti e un bilancino che sarebbe stato utile alla suddivisione delle dosi da vendere. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due uomini una volta arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati condotti presso il carcere di Sondrio e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.